You think you know me? Buongiorno buonasera ragazzi benvenuti in un nuovo video su sensea oggi parleremo di Atena exclamation se ve l'avete chiesto tanto uno di Atena perché il gioco in italiano l'ho appena installato non vi spaventate tornerà in inglese dal prossimo video credo perché ne distrime un po' di fila forse allora con me ci sta il pala ciao che ci ha fatto anche una guida della madonna infatti ve la lascerò nel primo commento pinnato così chi la vuole leggere anche testualmente con tutti gli ideogrammi del caso i ideogrammi e le citazioni non sono parole usate a caso se lo può andare a leggere con calma e per piacere e il darione ovviamente ciao ragazzi molto esperto di Atena exclamation vero Dario sono livello 1 però ce l'hai però ce l'ha allora ragazzi Atena exclamation io voglio essere sincero è un personaggio che a me piace tantissimo però se devo essere ancora più onesto come dicevo allora Atena exclamation è secondo me un personaggio non per tutti i player e non per tutti gli account però non so se dico una boiata pala tu che ne pensi allora al momento al momento è un flex ovvero una cosa che se siete forti se volete giocare cose molto divertenti è un personaggio fantastico però non è un personaggio fondamentale per adesso perché quando uscirà shura sulplice probabilmente lo diventerà se volete fare quel tipo di team già oggi infatti mi è stato chiesto come diventerà il meta io allora ho l'impressione che il gioco ritornerà in un brutto oblio perché da un lato ci sarà orfeo pandora commander che se vanno da quelli troverete il team bleed koshura do quello e Atena exclamation quindi probabilmente tornerà una monotonia mostruosa e il gioco riscenderà da capo a livelli inverosimili qualcuno ha detto brilliance fisica si probabilmente vedremo però si spera che questo non accada anche se per l'ultimo cosmo uscito parla proprio di questo però scopriremo solo vivendo perché dico che è un personaggio particolare partiamo un attimo dai cosmi allora già a livello di cosmi è un personaggio che vuole un botto di stazze rispetto ad altri e questo mi ha un po colpito infatti il mio l'ha buildato palo ovviamente anche perché quando uscito non c'ero e già il mio mi sembra piccolo vedendolo rispetto ad altri personaggi no non è piccolo rispetto ad altri miei personaggi tipo questo è il mio Atena exclamation ok 84 se prendo tatos come la gassa merda che è un personaggio però dell'anno scorso è più grosso tatos ma è certo sembra simile a livello di stazze mi sembra simile però lì c'hai lì resonance lì c'hai print cioè non lo so io mi aspetto che personaggi che dovrebbero essere più forti anche a livello di statistiche perché come abbiamo detto più volte i cosmi non è che le potenziano più di tanto ormai cioè sono troppi valori da skin pavilion templi è nel rebord un tempio con tre pg quindi un tempio molto basso e che non tutti hanno livellato perché nemmeno io credo l'ho finito nemmeno io l'ho finito a 145 infatti sto facendo la gaccia che c'è adesso che vi consiglio di fare se avete tanti diamanti da buttare perché sale parecchio il tempio ma più che altro vi aiutano in will of star a me sto aiutando tantissimo a livello di will of star torno ad exclamation almeno a prendere i premi da 300 con l'ultimo forziere conviene perché avete un ritorno molto migliore non vi consiglio di andare tanto oltre potete comprare fino a 200 fare fino a 200 pulo al giorno servono 300 per maxare l'evento quindi se vedete questo video lunedì avete questi ultimi due giorni per farlo se vuole è utile torno ad exclamation allora a livello di cosmi io penso che sia abbastanza libero solamente sui gialli e sul centrale è vero anche il centrale però da quando mi avete fatto mettere Daffodil è migliorato esponenzialmente perché io prima lo usavo in mir però io lo usavo in mir e con mir non avevo granché di vantaggio a parte la sfida ovviamente beh parliamo prima di che statistiche vuole allora molto brevemente questo personaggio vuole stats offensive quindi il critico sarebbe buono il piatta con un po' meno se avete un account grosso e vuole punti vita per poter curare e vuole la Pierce chiaramente per poter fare sempre danno fisico ruba vita, life steal? anche no però il fatto di volere sia l'attacco che la vita che la velocità perché anche un po' di velocità gli sarebbe comodo lo rende un personaggio abbastanza scomodo un po' come Toro che andremo a vedere in un altro video in effetti che uscirà troppo io comunque butto una piccola accortezza in più però per una volta sono fortunato con un personaggio se riuscite un po' di status seat per Ioria non fa proprio no lo status seat serve tantissimo se no uno dei tre aspetti non lo usate perché io adesso ce l'ho 38 perché ho dovuto cambiare il Duffodil però in realtà con l'Al Duffodil che uso di solito ho 42 qualcosa e Ioria non mi missa mai ah tra parenti io ce l'ho in 6a col 90 e passa di status seat fa comodo però non è molto leggerino a quel punto sì ma missare quando serve è brutto diciamo che come vi dicevo secondo me sui gialli un po' più di possibilità di variare perché i rossi vi servono o i branches o il po' vale brutto e brutto e brutto è quello nuovo questo qui perché è un po' da HP, da attacco e da penetrazione ovviamente i branchi sono meglio ma vedete non sono armabili in ANB se non avete nessuno dei due i file drop fondamentalmente i gialli è a vostra discrezione io adesso ce l'ho print solo perché sono doppia speed e status seat però non lo so i 6a non li ho mai provati perché a me fanno paura come Cosmo cerco il punto al momento penso preferirei Jedi se posso essere sincero no perché perdi un sacco di vite e la vita ti serve per curare ah giusto per Mu eh sì però non lo so io preferisco i cosmi molto difensivi e ovviamente se avessi gli Alli Resonance preferirei quelli ai spirit print però non ce l'avevo con le stazioni adeguate per questo personaggio però gli Alli Resonance danno pochissima puntuità quindi eh sì perché hanno solo il 10% percentuale è complicato ce li hanno flatte i print bilanciano bene la vita e le difese fisiche che danno i Naga quindi sono una cosa più equilibrata se volete usare la parte di Leo che descriveremo i 6a e se no vedete un po' voi insomma a livello di Blue penso che sia fisso Naga non è possibile giocarlo in altro modo no penso che in futuro lo vedremo giocato in New Moon però vabbè a quel punto giocatelo in Naga a quel punto vi prego non usate New Moon usate i Crimson Eagle perlomeno hanno una parvenza di senso in più che c'è lo status 6 no perché tanto useranno il bleed di score però che schifo diventerà vabbè speriamo che non sia così e anche qua come va detto Pala le sub sono quelle lì a livello di centrale invece è molto soggettivo e penso in base a come siete messi a livello di account perché il Duffodil soprattutto se siete come me che non ve ne frega di fare troppe cose e usare più che altro o Ioria per controllare o tirare un urlo perché è divertente vedere l'animazione dell'urlo Duffodil è un buon bilanciamento anche se come diceva Pala molto pericoloso però volete mettere che vi lasciano un HP voi rimanete vivi grazie alla skill di Mook che poi andremo a vedere lui sciotta è bellissimo Duffodil è controindicato solo in un caso se non bannate Pandora Commander se la bannate è tutto a posto se non la bannate se si crea un fantasma poi viene attaccato lui perde tutti perdono vita lui acquista un botto di attacco e si trova il più 2 costo alle skill quindi non potete usare le skill da 0 perché vi costeranno comunque 2 quindi potete fare i basic e sarà orrendo ma c'è ancora qualcuno che non banna quando la comanda la parte che c'era di triple speed eh io perché la uso e devo ricordarmi infatti di usarli insieme e di cambiare di cosmo quando lo faccio però io un cosmo che ho usato comunque è stato il mir e mi sono trovato molto bene però non fa molto danno cioè fa molto danno Milo l'urlo di per sé poca roba pusha l'ho visto giocato contro di me abbastanza e non mi ha per niente impressionato come cosmo centrale forse forse un tri per farlo accelerare e poi skillare immediatamente l'urlo può essere un'idea ma io rimarrei tra il Duffodil il mir o come ho visto fare alcuni del China il book of the dead è carino il book of the dead però non lo so loro comunque hanno più cose quindi forse è per quello che lo usano l'ho provato non mi ha entusiasmato troppo però è vero che io gioco un po' diverso un'altra opzione lo scarab per aumentargli punti vita di tanto vero però questo è a livello dei cosmi è la parte più complicata di questo personaggio so che molti diranno sulle skill però sinceramente una volta cioè io non ci faccio neanche più caso tanto uso Milo uso Ioria il resto è buono solo perché deve rimanere in vita però mi ci ringrazia perché dici il muro non mi piace ma andiamo a quella parte le skill tanto amate che sono infinite ovviamente vabbè sono solo sette attive dai come un tipo Poseidone via allora vabbè parliamo il fatto lo sapete benissimo ma comunque questo personaggio all'inizio di ogni azione voi scegliete quale tre personaggi incarnare e quindi avrete le due mosse attive il basic e la skill 2 di quel personaggio in più avrete dalla passiva la skill 4 l'aspetto di quel personaggio che resterà un top round e vi darà dei bonus passivi anche nelle forme successive quindi il base tutti i base sono interessanti allora quello più noioso è quello di Mu per modo dire perché spenge il cosmo centrale di chi colpisce per due azioni mi sembra che in realtà per un'azione a livello basso e a livello 5 è automatico attiva con pro percentuale più status hit ha un'interazione molto carina con Krishna perché è lo stesso tipo di debuff quindi con Krishna e ci potete fare prima quello e poi mettere il seal definitivo col debuff quindi il resto è abbastanza noioso lo userete forse durante la brilliance perché altrimenti la skill di Mu è a posto zero è più utile invece quello di Milo un attacco che fa sanguinamento con una certa percentuale dal 20% al 100% in base al livello e fa un certo numero di danni di per sé abbastanza irrilevante però determina quanto danno effettivamente fa la sua skill 2 perché questo numero di colpi moltiplicato un x volte quindi e poi quello di Leo che con una certa probabilità può causare paralisi abbastanza bassina effettivamente va alzato per andare un po' più a colpo sicuro e in più dal livello 4 fa lo stesso debuff di Shaka RC l'ultimo rimbalzo ovvero l'avversario non può usare skill che costano 3 o più ed è molto comoda in circa circostanza sì la paralisi è il nuovo è il nuovo status portato da lui che impedisce di fare attacchi base al personaggio quindi il personaggio non può fare attacco base se ha una skill e abbastanza energy deve usare quello al posto dell'attacco base quindi può essere carino per manipolare l'energy dell'avversario se gli mettete anche questa cosa del silenziamento del costo di skill 3 o più e non ha altri tipi di skill attivabili salta direttamente all'azione quindi particolare infatti leo lo sto trovando la versione molto utile contro i G-canon o contro Thanatos perché molti usano Thanatos per fare un base invece tu li obblighi alla skill e bruciano le due energy è molto comodo da poter fare scura allora ah non possono quindi saltare il turno lo saltano in automatico il turno no però dico se io non posso usare base ma non posso non voler skill no no devi skill per forza se hai l'energy devi skill è bello per questo è bellissimo quindi render i G-canon usati come batteri di energy un po' rischiosi perché da T2 devono skill a prescindere se volete fare questa cosina allora la skill 2 le tattiche oscure ah allora il muro di cristallo di Mu la skill a costo 0 è fortissima che causa due scudi uno su di sé e uno sull'alleato che sceglie pari a un quarto di vita di Mu a livello 5 quando vengono distrutti o rinnovati curano di quella quantità di vita tutto il team quindi praticamente del 50% di vita suo questi due muri causano la cura tutto il team anche se vengono rinnovati ovvero se c'è già lo scudo voi lo ricassate sul suo personaggio su di lui se c'è già si attiva questa cosa i muri durano due azioni è una skill abbastanza antipatica in quanto non sembra ma cura un bot perché comunque lui è un personaggio molto tancoso che costruite sulla vita e metà della sua vita tutto il team se non è un full heal quasi ecco ma costo a zero ogni round è fastidioso da gestire io lo uso tanto per superare l'anti-healing di Orfeo già dopo la prima volta che lo fate siete più o meno a posto in base al vostro e al suo livello di skill non è male però la seconda per me è la più utile che hanno fatto allora la cuspide scarlata l'attacco diciamo più carino di questa unità attacca per un numero di due volte più il livello della skill quindi sette volte a livello 5 ah piccolo spoiler questa skill la volete a livello 5 non usate direttamente il personaggio ve lo dico è vero sono colpi singoli quindi dopo 5 spaccate un muro dice un surplice e ignora tutti gli effetti di invisibilità possibili che il gioco ha e ha al 100% di applicare un saguinamento a livello 5 mi sembra sia inferiore a livelli bassi tanto lo volete a livello 5 non vi interessa in più con l'abilità passiva di Milo che comunque cioè scegliendolo attivate a prescindere ignora gli effetti di risurrezione e gli scudi di vita quindi vedete un allor nascosto non vedete più un allor nascosto di solito lo shottate è un effetto molto forte passa anche con GK anche con GK anche la risurrezione GK non conta quindi gli passa attraverso è abbastanza poca vita ma sono sette base però non contano per Artemide no 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 un danno pari a sette volte il base in colpi singoli però alzare il base serve per aumentare il danno solo che non facessi anche sette volte Artemide sarebbe stato bello di immagini vedere gli Artemide fare base a catena e curare tutti a catena sarebbe stato bellissimo no no e poi arriva quella che utilizzo di più alla fine però allora il lightning plasma sacro leo variante non si può leggere mannaggia allora fa una oe attacca tutti i nemici facendo un danno relativamente irrisorio anche se il colpettino finale spesso lo dà causa paralisi una probabilità molto alta su target principale piuttosto bassa su tutti gli altri e la differenza del 70% mi sembra molto eccessivo i versagli già sotto il controllo prendono due volte il danno quindi questo è comodo tipo per fare diverse cose ma soprattutto per contro Milo è devastante perché di solito si svela con tanti modi anche se è velato avete una piccola probabilità di prenderlo uguale e gli impedite completamente di agire e di fare azioni multiple infatti stranamente è scomparso quel personaggio dal meta no è scomparso per Orfeo però questo è un bel colpettino di grazie nel senso tutto quello che gli hanno cacciato fuori era anti Milo l'RC di Orfeo il loro l'RC volendo anche gli altri personaggi anche Saori che uscirà che arriveranno insomma sono molto anti Milo sì poverino la skill che in teoria dovrebbe essere la più bella che invece è una specie di meme allora su un account grosso effettivamente fa però è più o meno la skill di Toro quello vecchio in versione un po' più figa allora fa un sacco di danno sul target principale e un po' di danno a E misto fisico e cosmico il danno cosmico si basa sulle sue stat cosmiche quindi per un account normale qui varrà una petina bagnata più o meno perché vede tipo ah critico 200k più 5k di danno cosmico ok comunque niente carica per un round come Toro come Radamante e fa questi danni qui per ogni aspetto che avete già attivato che vedremo nella skill 4 aumenta il danno 30% tra le altre cose se avete attivato Leo che di base dà l'immunity così gli dà l'immunity completa anche a esilio e incatenamento vabbè parliamo di attentis cosa nella skill 4 che skill è tanto questa skill è praticamente finita l'unica cosa che vorrei dire è occhio perché scala di merda scala malissimo da 700 1000 mamma mia scala male comunque ogni tanto ci vincerete le partite di più delle volte non avrete bisogno però è lì appunto secondo me si parla molto molto di account molto allora Trinity la skill passiva fondamentalmente il livello determina solo la durata la durata è il livello più 1 praticamente ogni volta che è attivato un personaggio diverso viene l'iconcina della sua costellazione in cima sopra il personaggio più o meno gli stessi colori degli ideogrammi di giallo per mu blu per ioria rosso per scorpio sì volevo dire quel virgo di next dimension che ho cercato di dimenticare però allora cosa succede l'effetto di mu è che praticamente gli dà un effetto di dragon tit fondamentalmente che quando sta per morire invece si salva e attiva e crea un muro su se stesso del suo crystal wall come da skill 5 e da skill 2 ok è comodo poi per il fatto si può salvare più volte perché una volta il muro viene distrutto cura tutto il team è antipatico questa skill funziona anche mentre è in caricamento dell'exclamation dell'urlo solo che si attiva in modo diverso ovvero lo rende completamente immune al danno letale finché non lancia la skill poi muore malamente infatti di solito se tirate l'urlo mu è il personaggio con cui tirarlo fondamentalmente sì dovete avere attivato in realtà volete tanto avere attivato anche Milo perché la versione di Milo dice che i danni infitti del bersaglio principale ignorano gli effetti di scudo ovvero gli scudi vita e gratis per risurrezione quello che avevo detto comunque prima invece Leo diventa immune contro che è una cosa molto utile perché ultimamente stanno proliferando quei Poseidone che frizzano quindi è carino se non lo frizzano subito poi lo rendete immune e fate ciao allora parliamo dei livelli che servono a questo personaggio fondamentalmente sì molto brevemente una versione base è il basic a 1 la seconda a 5 perché se no non lo giocate poi potete lasciare l'urla a 1 e Trinity a 2 per attivare l'ottavo senso e siete a posto 1-5 1-2 funziona è carino fa più o meno tutto quello che deve se volete se volete aumentare il pungiglione di Milo in modo che faccia anche un danno un po' più decente volete poter fare tutti i giochini con i basic che comunque sono molto carini e secondo me valgono la pena se avete dei tomi da parte è il basic a 5 quindi 5-5 1-2 successivamente se volete alzare qualcosa portate l'ultima a 3 così avete più durata sulle passive se volete usare lo stesso tipo di personaggio più vuoto di fila può tornarvi molto comodo dopodiché se avete i tomi che vi avanzano è libero non ne vale la pena potete alzare la skill 3 e la skill 4 ancora di più io lo che infatti la cosa più strana di questo personaggio che si chiama urlo di Atena è che l'urlo di Atena è la cosa più inutile che gli hanno messo io l'ho fatto durante il rebate e mi sono fermato a 5-5-3-3 e mi sto trovando bene e non ho mai voluto alzarlo di più ma insomma c'è anche troppo è un ex è un SS come il Lili va bene quindi come avrete capito questo personaggio non è molto facile da gestire infatti adesso farò comunque una cosa divertente Dario adesso a memoria secondo te per la gente free to play che ti continua ad ascoltare questo personaggio cosa dovrebbe essere? va bene l'avete detto voi non gli serve è uno skip fondamentalmente però ha un'unica cosa che effettivamente potrebbe renderlo un po' pesante perché si fondamentalmente da schippare da anche evitare come la peste anche per account medi in realtà l'unica cosa è la possibilità che diventi un meta dove Milo vi serve cioè vi serve Milo della trinità non il resto degli altri due però speriamo che non accada mettiamola così però bisogna vedere sempre se è un meta fattibile per un free to play bisogna raccare tante cose per il futuro vi dico faccio lo spoiler Nii perché richiede anche due S quasi full skill quindi auguro e tra l'altro devono uscire uno di fila all'altro quindi ancora peggio quindi sono di fila proprio quindi diciamo che se potete farlo è divertentissimo se volete schifarlo cosa è successo? scusate ma appena la palla ha iniziato a parlare in video l'hanno visto V ha detto basta con le chiacchiere ma che se lo faccia la posta ci riuscivo vabbè ragazzi insomma Lex è questo noi comunque lo porteremo settimana prossima perché questa settimana oggi che vedete questo video è lunedì noi siamo al distruttore domenica lo vedete in basso a destra faremo anche Toro e Doco DC perché io poi ho il trasloco delle cose di giù quindi probabilmente non posso fare video durante la settimana quindi settimana prossima invece che dovrebbe essere uscito Doco domani mi aspetto un annuncio o in caso portiamo solo Lex e Toro porteremo i pvp con le line up cioè vi farò vedere qualche pvp con le line up migliori dove ficcare questi personaggi ovviamente Lex o lo ficcate dove vi pare non ha una line up vera e propria adesso cioè per adesso io lo uso perché mi diverto usarlo perché è molto cangiante però non ha una vera e propria line up dove dite oh mio dio lo devo mettere per forza però adesso no quindi tranquilli allora per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao